Sono Massimiliano Ricciarini, presidente dell'associazione Street Food che ha organizzato nello scorso weekend 8, 9 e 10 aprile l'evento Street Food for Wheels al Parco Giotto. Abbiamo riportato tanta gente al Parco Giotto, abbiamo creato tanti contenuti fra cui turismo e 50 persone che dall'Umbria sono arrivate per fare queste visite, per vedere l'evento, per visitare Arezzo e abbiamo provveduto con Cooperativa Futura alla pulitura in corso d'opera dell'evento e ovviamente al mattino da quello che è rimasto da quando abbiamo smontato la domenica sera. Ci tengo a farlo perché Cooperativa Futura ha fatto veramente un bel lavoro. Siccome mi immagino e ci sono state già delle rimostranze da qualcuno che probabilmente era al parco stamattina all'apertura dei cancelli e ha visto qualche sacco ammucchiato da una parte quando già Cooperativa Futura alle 7 perché c'ero anch'io ha iniziato a ripulire. Questa è la cabina della ditta che ha provveduto a installare l'impianto e già stamattina insieme a Cooperativa era qui a smontarlo. Deve finire alcune cose e dopodiché lascerà tutto quanto come l'ha trovato. Questa è l'area del parco dove si è svolto l'evento. Ribadisco che durante l'evento abbiamo fatto delle foto che si possono vedere sulla nostra pagina Facebook Street Food Italia e sulla pagina dell'evento Street Food for Milza Rezzo. Cooperativa Futura è intervenuta stamattina oltre che a raccogliere e buttare via i sacchi anche a infilare col punteruolo le carte rimaste. Non c'è una carta in giro. Ribadisco che sono mezzogiorno e mezzo. Lo faccio adesso perché ho visto le foto che sono state scattate e ci tengo anche se con qualche minuto di ritardo. devo fare i complimenti anche ai miei concittadini, alla mia città che mi fa piacere che abbiano gradito la proposta fatta con l'evento, con i cibi proposti, che mi complimento perché hanno collaborato. Noi abbiamo messo cestini ovunque, anche intorno ai tavoli dove la gente si sedeva a mangiare. tutti gli operatori, tutti i 31 operatori hanno contribuito anche loro a lasciare la postazione perché si trovano in un parco e mi hanno fatto presente anche il loro gradimento della location in cui si è svolto l'evento. e quindi si sono sentiti anche così in maniera coscienziosa di lasciare la sera alla fine di ogni serata dell'evento, venerdì sera, sabato sera e domenica sera, le proprie piazzole pulite. La cooperativa Futura ieri sera domenica 10 aprile ovviamente a un certo punto ha smontato e tutti i sacchi sono stati da noi raccolti e ammucchiati e raccolti tavoli che sono stati recuperati dal quartiere da un trasportatore del quartiere di Porta Sant'Andrea e che ringrazio in questo momento per aver fornito i tavoli. il palco non c'è più il laghetto è in tonso e poi ribadisco che il nostro impegno oltre ai contenuti culturali, alla collaborazione con Coldiretti e l'Iltarezzo e Banda dei Piccoli Chef e tutte le altre collaborazioni, il nostro ringraziamento va anche al Comune e questo evento è stato fatto anche per lasciare un contributo alla città e al Comune, quindi per il progetto di di ristrutturazione del Parco Giotto con particolare riguardo al laghetto che era accanto al nostro al punto esatto dove eravamo noi con l'evento tutto ripulito cartacce sacchi cartoni è stata fatta la differenziata quindi oltre a cooperativa toscana cooperativa futura chiedo scusa anche se è toscana ringraziamo per aver collaborato eccoci qua qui c'era il palco per la gente che ovviamente intorno alla musica come succede si mette in maniera più serrata diciamo così non viene il termine a mangiare e a bere per godersi da vicino lo spettacolo musicale mi chiedo ma il sabato subito dopo il mercato di Giotto alle due più o meno tutto ovviamente anche lì i sacchi e lo sporco rimasti prima che vengano a ripulire oppure quando c'è il mercato internazionale la sera stessa o la mattina quello che rimane da pulire di quello non ne ho mai sentito parlare ma si sa quando le cose vanno bene c'è anche chi ovviamente non è mai contento però noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e faremo sempre di più perché questo è il numero zero e dove è stata fatta la foto l'abbiamo visto prima in torno al palco e anche qui non c'è più niente tutto è stato ripulito grazie di nuovo a tutti a tutti i partner al comune di Arezzo grazie alla città grazie a tutti grazie a tutti grazie alla città grazie a tutti